Autonomia. Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione con la quale il Presidente di Giunta Alberto Cirio tratterà con il Governo la richiesta di un'autonomia differenziata per il Piemonte. Oggi scriviamo una pagina importante perché stabiliamo che il Piemonte può assumersi responsabilità nuove che vuol dire risparmio economico ed efficienza maggiore per i cittadini. Finalmente ci mettiamo al pari di Veneto e Lombardia. Loro l'hanno fatto con un referendum che ha visto impegnati i milioni di persone. Noi lo facciamo oggi avvicinando i centri di controllo e i centri di spesa ai cittadini e iniziando un percorso virtuoso di federalismo. Una sfida rivolta a promuovere nuove forme di governo, nuove forme di competenze, nuove forme di legislazione e di regolamentazione nell'ottica di una semplificazione del sistema e del miglioramento dei servizi. Il via libera al provvedimento è arrivato con i voti non solo della maggioranza ma anche del Partito Democratico e dei moderati. L'autonomia differenziata può essere uno strumento utile ai piemontesi. Noi abbiamo lavorato affinché la Regione Piemonte potesse discutere con il Ministero competente per dare la possibilità di utilizzare qui sul nostro territorio tutti gli strumenti necessari per affrontare e risolvere i problemi delle persone. Il voto favorevole da parte del Partito Democratico è arrivato dopo che la Lega ha accettato lo stralcio del testo nella parte sulla scuola che prevedeva il reclutamento degli insegnanti su base regionale, un passo indietro voluto anche dal capogruppo Fratelli d'Italia Maurizio Marrone. Liberi uguali verdi dal canto suo si è astenuto, mentre i consiglieri del Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Non ci è stato spiegato dalla Giunta in che modo andranno a chiedere l'autonomia e soprattutto per fare che cosa. Per noi l'autonomia non può essere solamente un fine, ma deve essere un mezzo per migliorare la vita dei cittadini. Sono fiero del risultato raggiunto. L'autonomia differenziata rappresenta un traguardo storico per il Piemonte, ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. La delibera approvata chiede di trasferire competenze dallo Stato alla Regione, in particolare sul governo del territorio, beni paesaggistici e culturali, protezione civile, infrastrutture, tutela del lavoro, istruzione tecnica, professionale e universitaria, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, ambiente, rapporti con l'Unione Europea, ricerca scientifica, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, organizzazione della giustizia di pace, protezione della fauna e dell'attività venatoria, ordinamento sportivo, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, sviluppo e promozione delle aree montane.